Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono tornate a crescere a luglio per la prima volta in quattro mesi, facendo registrare un balzo dello 0,8% in più, a quota 403 miliardi di dollari. Il dato, reso noto dal Dipartimento del Commercio, nettamente migliore delle attese di analisti, che si attendevano un rialzo limitato allo 0,2%. Si tratta della migliore performance da febbraio. Immediati i riflessi sui mercati europei, piuttosto soddisfatti dei dati sul prodotto interno lordo in Eurozona, specie in Germania ed in Francia. Il differenziale tra il BTP e il Bund, spread, scende sotto i 440 punti. Il rendimento del BTP dicennale si mantiene al 5,8%.